Che fine ha fatto Clash Royale sul mio canale, considerando che l'ultimo video che ho fatto su Clash Royale risale al, ve lo dico subito, 5 settembre 2017, quindi più di un mese fa e quest'estate ho caricato una cosa tipo 3 video di Clash Royale Allora, questo vuole essere un video molto molto diretto dove parliamo insieme, volevo sentire anche la vostra opinione, volevo sentire cosa ne pensate anche riguardo al nuovo aggiornamento Quindi cercherò di essere il più rapido possibile, il più breve possibile, mi raccomando commentate qui sotto con scritto cosa ne pensate Mi piacerebbe se instaurasse una vera e propria discussione diciamo Detto questo mi sembrava doveroso fare questo video perché non vi ho mai dato spiegazioni, considerando che il mio canale un anno fa era incentrato principalmente su Clash Royale Ora, io vi dico tutte queste cose con la massima sincerità, sostanzialmente non è che ci sono motivi super mega complicati Non è che, no Yaki tu segui solo le mode e adesso Clash Royale non va più di mode, non fai più Clash Royale e tutte queste cose qui Semplicemente io da quest'estate, anzi in realtà da un po' prima ho iniziato a fare sempre meno Clash Royale Non tanto perché non ci giocassi tanto, anzi quello in realtà si, perché adesso oggettivamente non ci gioco più tanto Però ci sono stati dei periodi anche in cui ci giocavo, ma il problema è un altro, il problema è dal punto di vista di Youtube I video di Clash Royale erano diventati veramente sempre la stessa cosa, sempre il solito contenuto Sempre il solito video dove al massimo apri dei bauli, trovi dei leggendari e poi fai altri 10 minuti dove attacchi semplicemente con il solito mazzo Fai le solite cose, dici le solite cose, sempre gli stessi video E oltre al fatto che non mi divertivo più, non mi piaceva proprio l'idea di portarvi un contenuto uguale ad altri contenuti che avevo fatto E uguale sostanzialmente ad altri contenuti di altri Youtuber A me è sempre piaciuto differenziarmi, a me è sempre piaciuto fare cose diverse E sinceramente anche andarmi a inventare, che ne so, di fare tre corone con solo quella cosa lì Piuttosto che quella cosa lì, piuttosto che fare un attacco diverso dove uso l'esercito fatto con i dadi o così Alla fine è sempre la stessa cosa ragazzi E quindi diciamo che sono stato un po' in questa pausa della serie non so che video fare un po' diversi Poi è chiaro che vedendo anche che voi in primis non mi avete richiesto particolarmente tanti video di Clash Royale A me poi non viene neanche voglia di pensare, di farne altri, di pensare cosa potrei fare Se mi mettesse a fuoco sarebbe meglio forse Chiaramente, se vedo che sotto questo video ci sono 7500 commenti del tipo Dai Yaki devi fare per forza un altro video, così cosa Mi posso anche inventare qualcosa Ma qui arriviamo al secondo punto, ovvero l'aggiornamento Per chi non lo sapesse infatti aggiungeranno la modalità touchdown La modalità football diciamo, che sarà una cosa secondo me molto carina E sicuramente credo al 90% dei casi che ci farò in ogni caso un video Perché ci sta, è una novità A me è sempre piaciuto fare i video sugli aggiornamenti Tutte queste cose qui Attenzione, questo qui non vuole essere un video descrittivo sull'aggiornamento Vuole essere un video di discussione generale Il punto è, ok, questa nuova modalità ci sarà sicuramente questo mese dove uscirà Dove sarà molto molto bello, dove tutti faranno i video Dove ci divertiremo insieme E sarò contentissimo di questo Ma poi, non risulterà anche questa cosa noiosa? Questo è il mio dubbio sostanzialmente E capite ovviamente che io mi faccio due domande Quindi io voglio sapere veramente la vostra opinione Avete visto che sul canale ultimamente sto portando molti altri video che vi stanno piacendo E sono felicissimo di questo Però vorrei sapere anche la vostra opinione su Clash Royale Perché appunto, ora come ora, è in una situazione non bellissima A me è un po' dispiace Visto che ci ho passato veramente tanto tempo su Clash Royale E finire così non è proprio una bellissima cosa E quindi io volevo solo sapere la vostra opinione Non vuole essere nient'altro questo video Veramente fate dei commenti sensati Fate dei commenti ragionati Io vi prego Perché sono curioso di sapere cosa ne pensate Di Clash Royale Della situazione Clash Royale In futuro Di cosa può succedere con questo aggiornamento E ovviamente se avete consigli su video che potrei fare Magari anche con altri youtuber C'è qualcosa che potrei fare Che sto progettando Anche per riportare qualcosa di carino su Clash Royale Non vi dico nient'altro ovviamente Però mi raccomando qui sotto nei commenti Detto questo ovviamente io sono veramente felicissimo Del tutto il supporto che mi state dando Con la storia adesso di un video al giorno Mi raccomando Io mi sto impegnando veramente tantissimo E sono veramente felice di come sta andando il canale Quindi vi ringrazio per tutto E niente ragazzi Noi ci vediamo nel prossimo video